Salve a tutti, allora oggi vi vorrei chiedervi una cosa, qui sotto nei commenti scrivetemi quale parodia posso fare dei cartoni, perché prima quando avevo il mio vecchio canale facevo delle parodie, e scrivetemi anche quale altro doppiaggio posso fare, perché nella playlist potete trovare il video che ho fatto di Frozen del doppiaggio, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!